preparazione fisica sportiva. In attesa che ci sia qualche domanda, volevo iniziare io con dei riferimenti bibliografici, questo è un libro di Marco De Cesaris, De Vecchi Editore, l'ho già recensito, penso sull'altro mio canale YouTube, Marco AM. Dunque, ci sono molti manuali di preparazione fisica, di preparazione atletica, in realtà io penso che sia molto importante definire il lessico, perché io quando ero studente di scienze motorie ero stato formato con, buonasera Edward, ciao Giovanni, bentornato, ciao Jacopo, ero stato formato con la terminologia accademica, cioè che distingueva la preparazione fisica dalla preparazione atletica, cioè la preparazione fisica riguarda le capacità muscolari in senso lato dell'atleta, quella invece atletica riguarda proprio le abilità sulla pista di atletica, quindi tutte quelle sessioni di scatto, di slalom, una terminologia un po' magari forse radicata dal vecchio Isef. A me piace di più la terminologia che usa questo signore, Marco De Cesaris, uno dei migliori autori di libri, io ho cominciato a fare il Thai Box grazie a questa persona, lui distingue in seno al termine condizionamento le tre branche appunto, questo libro l'ho consumato, fuori di leggerlo e rileggerlo, ecco lui riassume in tre punti le caratteristiche, le chiama caratteristiche, allora qua parla anche lui di preparazione fisica, si vede che ha studiato, lui scrive la seconda dote essenziale è una impeccabile preparazione fisica di cui si distinguono tre livelli, osseo, muscolare, nervoso, quindi lui parla come un docente di scienze motorie, però distingue nell'ambito della preparazione fisica i livelli di condizionamento, questa è una buona base di partenza su cui cominciare un dibattito, una discussione sulla preparazione fisica, qua parla di allenamento osseo, allenamento muscolare e allenamento nervoso. Dear Prod, ciao, ciao Luigi, ciao Ziz, Ziz ormai è un affezionato delle mie live, dunque preparazione, per farvi un altro esempio, allora parliamo sempre di Muay Thai, di box thailandese, nella box thailandese nel Muay Thai ci possono essere questi tre livelli di condizionamento, chiaro che un preparatore fisico che utilizza manubri, bilanceri, è più che altro focalizzato sulla preparazione muscolare legata agli esercizi in cui si muovono i carichi, il discorso invece del condizionamento tibie, del condizionamento gomiti, appunto dell'allenamento nervoso e osseo è demandato al preparatore atletico, che è quello che si occupa di tutte le routine che sviluppano le capacità da combattimento più specifiche come la resistenza ai colpi, la sopportazione dei colpi, i riflessi, il timing, i drill di combattimento. Quindi questa era una precisazione importante che ci tenevo a fare, condizionamento osseo, muscolare e nervoso o come dice l'autore allenamento osseo, muscolare e nervoso in seno della preparazione fisica. Nello scorso video ho trattato anche del pugilato, ho trattato anche di rugby e di pallanuoto, quindi questa è una live che magari vorrebbe raccogliere le domande più interessanti su questi sport, tutti gli sport. Ho avuto richieste anche sul tennis, anzi parlando di tennis, volevo dare qualche spiegazione anche a un mio allievo, a un mio cliente che è in coaching con me e dedicargli magari uno spaccato di questa live. Giovanni Ardillo, nel nuoto ad esempio ho sempre visto fare basse percentuali ed alta velocità di esecuzione, cosa ne pensi? Ma sono scuola di pensiero, qua non voglio entrare troppo nello specifico, ma un nuotatore deve fare i conti anche col peso corporeo, quindi appesantirsi troppo con basse ripetizioni e grossi muscoli forse non è, dipende poi dall'altezza anche del nuotatore. Ciao Luigi, ciao Ziz. Beach Volley, Lollo 71. Allora, andiamo con ordine. Dario non saltare, esiste un bel libro sulla pesistica? No, che mi risulti no, nulla ti vieta di cercarlo, nulla ti vieta di provare a cercarlo, ma manuali, tecnico, pratici sulla pesistica non ne ho. Disco Duca, hai visto il K.O. di Petrosian? Ho fatto un video su Marco A.M. Franco Laurel, farei mai un video su esercizi per canottaggio o canoa? Anche qua. Il preparatore fisico non vi insegna a pagaiare o a remare, ok? Può comunque potenziare i muscoli coinvolti nella catena muscolare per remare o per pagaiare. Poi il lavoro sul fiume, il lavoro sul corso d'acqua inerente a quella disciplina va fatto in barca, cioè sull'imbarcazione. È chiaro che avere un preparatore fisico è un grosso acceleratore di risultati, anche perché per quanto sia in soglia lattacida, è uno sport in cui servono vigorose contrazioni muscolari. Poi è chiaro che un atleta di grande talento, di grande capacità, di grande predisposizione riesce a erogare un vattaggio elevatissimo per periodi prolungati. Io ho visto un video inerente al record di maratona, pensate, di maratona, di un ragazzo di colore che ha fatto, un ragazzo nero, insomma si dice che non vorrei che, un ragazzo nero che ha fatto il record mondiale di maratona con un tempo incredibile, è riuscito a correre tutti i 42 km con una velocità media molto, molto elevata. Prendevano delle persone dalla strada, gli facevano provare su un tapirulano in quella velocità e resistevano a massimo 30-60 secondi. questo ragazzo ci ha fatto 42 km. Si parla di un atleta molto, molto, molto prestante, molto alto, con delle leve molto lunghe, che è riuscito a mantenere una velocità di crociera elevatissima per tutto il tempo della maratona, tant'è che ci ha fatto un record mondiale. Edward, secondo te cercare di ridurre il gesto per il tennis, tirare la palla, pesante o manubrio? Allora, Edward, nel tennis puoi anche usare palline più pesanti, ma quello rientra nella preparazione atletica. Dal punto di vista fisico, secondo me, su un tennista è molto utile lavorare, corrispondo anche a Zanotti Francesco, mio cliente. Sul tennista, sull'atleta tennista, è molto più senso lavorare sul discorso prevenzione, quindi un tennista non ha magari bisogno di sollevare, non so, 100 kg di lento avanti di military press, però ha bisogno di tutta quella serie di esercizi monoarticolari per gli estensori e i flessori digitali, per rinforzare il polso, per rinforzare il gomito, quindi per proteggere le articolazioni. E ci sono lavori pallosissimi, noiosissimi, che però vanno fatti rientro nella preparazione fisica, prima che diventino competenza di un fisioterapista che si ritrovi costretto a mettere una pezza su una situazione legata ad un infortunio. Quindi prima di rompervi, prima di demandare a un terapista, meglio che sia il preparatore fisico a prevenire, prevenire meglio che curare. Quindi il tennista, le giunture, la cuffia dei rotatori, molto importante. Adesso non vorrei fare un torto a Gabri Canics, che mi ha bacchettato, che ho ficchiato dentro il grande rotondo, sottoscapolare, sovraspinato, infraspinato e Teres Minor, piccolo rotondo. Teres Major non è indelente alla cuffia. Comunque, un tennista deve, secondo me, potenziare la cuffia dei rotatori e anche rinforzare tutte le giunture dell'arto superiore, spalla, gomito, polso. Ricordo un libro di Andre Agassi, il tennista mi pare iraniano, il libro si chiama Open, e la sua autobiografia, sempre se il libro era scritto lui, in cui diceva che verso la fine della sua carriera ha dovuto sostenere un'operazione chirurgica ai tendini della mano, non ricordo quale sezione del carpo, metacarpo, non ricordo, però doveva essere un'operazione piuttosto semplice di un'ora e mezza, in realtà l'intervento si è prolungato per diverse ore, mi pare 5 o 6 ore, se ricordo bene. Quindi la preparazione fisica ha due aspetti, sostanzialmente. Quello più divertente è quello di muovere grossi pesi, potenziare il fisico e quello molto meno divertente è quello di fare tutti quei piccoli esercizi di rinforzo articolare, che sono pallosissimi, che però fanno la differenza tra l'agonista sano e l'agonista in bilico tra un infortunio e l'altro. Allenare la panca piana per avere transfer nel dip 1RM, cosa ne pensi? Io ho una mente abbastanza strutturata a livelli gerarchici, io penso che le dip siano un esercizio subalterno alla panca piana, un esercizio inferiore alla panca piana. La panca piana dà tantissimo transfer alle parallele, le parallele non danno transfer alla panca piana, questa è la mia opinione, poi una volta creata una massa muscolare di base, è chiaro che un atleta che si specializza sulle dip diventa più forte di un panchista a fare dip, però prima di arrivare alla biforcazione della specializzazione, secondo me la base è la panca piana, non va comunque eliminato il dip alle parallele, però la panca piana dà un'ottima base muscolare anche per fare dip, poi bisogna, ripeto, specializzarsi. Marco mi pare di aver capito che secondo te ha poco senso cercare di riprodurre un gesto sportivo per esempio, allora è lo stesso discorso, nel pugilato non si fanno i colpi con i manubri per potenziare i muscoli, si fanno per una correzione tecnica, per ripulire la linea di tiro, non c'entra niente con la preparazione fisica, è una preparazione tecnica proprio per le traiettorie dei colpi, il pugilato è uno sport sofisticatissimo. Infatti i manubri utilizzati in questo caso sono leggerissimi, ho visto atleti molto forti di fare quel lavoro con 2 kg per mano. 0-0, che esercizi da palestra consiglieresti per un karateka stile Shotokan, grazie. Te ne dico uno, se no stiamo qua a mezz'ora. Lo stacco sumo wide stance è molto indicato per un karateka, non soltanto per il combattimento, per la potenza dei calci, anche perché il karate Shotokan competitivo impara che sia a contatto epidermico, light contact, quanto per i kata. Nella stance del Kiri Barai, se ricordo bene, è prevista una cosciata molto ampia e molto bassa, quindi lo stacco sumo potrebbe essere un buon propedeutico per questo esercizio. Chiaro che devi comunque fare Kiri Barai. Marco Ricci, ma il buon vecchio a Baddono, ma non svegliamo il che anche dorme, non vorrei trovarmelo in mezzo alle balle anche stasera, però... Allora, chi badaci? Domando scusa, domando scusa, chi badaci? Ciao Daniele, dear prod, chi badaci? Dario non saltare, forse ho il lessico un po' arrugginito sul karate, 0-0, mi dicono chi badaci o Kiri Barai, dimmi un po' com'è la situazione qua. Dovrei sennò consultare il manuale di karate, non ce l'ho neanche qua. Io chiaramente conosco per sommi capi un po' tutti gli sport, ma sono appunto per sommi capi. Non conosco i nomi magari dei kata o dei calci, soprattutto in giapponese. Comunque è la posizione del cavaliere, posizione del cavaliere. Allora, Andrea Rivieri, l'armonia fisica dei saltatori con l'asta. Beh, atletica leggera non ha come fine l'estetica, tuttavia ci sono fisici molto belli anche in seno con la disciplina. Andrea Rivieri, preparazione fisica dei saltatori con l'asta. Qua c'è poco da fare, perché il condizionamento muscolare non è così gravoso, perché l'atleta deve essere molto leggero e molto scattante. Anche qua. Non aspettatevi un saltatore d'asta che faccia 250 di squat. Qua è veramente molto molto importante intersecarsi con il preparatore atletico e con il tecnico, perché il preparatore fisico ha veramente uno spazio di manovra piuttosto limitato. Comunque, ripeto, la preparazione fisica va sempre concordata con il tecnico dello sport in sé. Anche un calciatore, adesso io parlo di cuffia, dei rotatori, di polsi, di articolazioni. Cioè, un tennista deve avere una cura maniacale di questi aspetti, un calciatore no. Una punta che gioca a calcio nel ruolo di punta non penso che abbia problemi alla cuffia dei rotatori, sostanzialmente. Non ha bisogno di dedicarci tutta quell'attenzione, per esempio, che può avere un pugile o un tennista. Canale di Vero. Marco, per caso potresti fare qualche video di tue allenamenti? No, ma sarebbe pallosissimo. Sarebbe pallosissimo. E poi, per me allenarmi è come farsi la barba. È una cosa personale, intima. Io ogni tanto metto qualche alzata così per tenere vivo un po' anche questo aspetto. Ma allenarsi è una cosa personale, secondo me. È come se io mi filmassi finché mi faccio da mangiare o finché mi raso. Cioè, il viso non ha tanto senso, secondo me. Mi rendo conto però che il trend moderno va in questa direzione, soprattutto con i nuovi social network. Io ho visto TikTok. C'è gente che lavora al bar, col telefono attaccato lì, fa le dirette finché fa il caffè. Ragazzi che fanno le dirette finché lavorano in faregnameria. C'è gente che seguono i tronchi col telefono che li filma. Bariste che fanno il caffè col telefono acceso per la live. C'è anche Don Ambrogio su TikTok adesso. Un parroco di Verona che ogni tanto seguo. Però è un altro stile. Io sono più orientato sui contenuti, diciamo, succinti, sintetici. Fabrizio B. Marco, conosci, segui Cicalone? Sì, lo conosco. Abbiamo anche parlato. Poi era molto amico di Enrico Lucciolli, una persona con cui ho lavorato quando insegnavo arti marziali per pagarmi l'università. Sto seguendo anche un altro YouTuber molto interessante, un certo Capuzzi di Roma, che ha fondato una sua accademia, la Otsuka Club, se ricordo bene. Un mondo con il quale non ho mai del tutto staccato la spina, quello delle arti marziali e degli sport da combattimento. Seguo Cicalone e lo ritengo un astro, non dico nascente, ma ormai consolidato nel firmamento degli YouTuber. Ha creato tutta una serie di modi di dire, di frasi ricorrenti, di frasi tipiche. Ha fatto una crociata contro quelli che lui chiama i krav maghi. Pugile tesserato FPI o istruttore federale FPI, non penso che combatta più. È sicuramente un grande intrattenitore che ha segnato questa generazione. Ormai il mondo delle discussioni inerenti alla difesa personale e allo sport da combattimento deve fare i conti con Cicalone. Io personalmente ho fatto anche krav maga e ho avuto ottimi insegnanti, ma lo stesso Cicalone dice che ci sono insegnanti buoni anche nel krav maga. Lui per krav mago intende lo scarso, ma anche nel pugilato uno può essere un krav mago anche di pugilato, diceva Cicalone. Io ho fatto krav maga qua a Brescia con KMT, krav maga training con Luca Goffi e ho un ottimo ricordo. Bleggi, ora vogliamo Don Ambrogio in live, quant'è l'alzare pesi? Neanche se alleni, penso che neanche se alleni. Ciao Marco, un commento su Marvin Vettori. Ha vinto contro Costa ai punti, grande vittoria. Costa non è mica l'ultimo degli scappati di casa. Purtroppo con una Vesania non è riuscito a spuntarla, però Marvin Vettori è uno che non butti giù, ha una resistenza di ferro, è un grande incassatore. Non capisco per chiamarsi Italian Dream in inglese, cioè il nome in inglese per dire sogno italiano, potrebbe chiamarsi in un altro modo secondo me, poi si chiama anche Marvin che non è un nome italiano. Però vabbè, grande Marvin Vettori. Perro, ciao Big Mark, parere sul behind, boom boom. Ma chi sei tu, un amico di Abad? Disco Duca, non ho capito la risposta che mi ha dato sul K.O. di Petrogen, dove trovo il video che ho fatto subito. Allora, Disco Duca, io ho un altro canale, piccolino, cioè non che questo sia mainstream, però su YouTube se cerchi Marco AM, sarebbe Marco Arti Marziali, trovo una recensione sul link, il mio parere diciamo, sull'ultimo incontro tra Petrosian e Superbon, ho fatto un'analisi abbastanza approfondita, per quanto corta, e li trovo il mio parere sul K.O. che Superbon ha procurato a Petrosian, e questo è quanto. Mi piace tenere separati i due canali, uno in cui faccio, uno in cui tratto di arti marziali, l'altro in cui questo tratto di pesi. Sorvegliato speciale, Marco, per avere un bel collo come il tuo, come si fa? Ma il mio collo non è niente di speciale, è un collo che ritengo armonizzato con il resto della mia struttura, non ho, ci ho dedicato la giusta importanza, perché va allenato come tutti quanti gli altri muscoli. Fabrizio B. Hai letto dello scontro McGregor-Facchinetti? Sì, anche le battute in cui dicevano che se McGregor lo afferrava per i capelli, Facchinetti poteva scappare, mi pare che Facchinetti abbia una protesi ai capelli, ma vabbè, un gesto francamente in spiega, ma McGregor è da un po' che ha preso stacchina, un po' così. Ricordo anche il match con Mayweather, tutta quella campagna di trash talk, inguardabile, non ne ho seguito per neanche 30 secondi di fila. E quando si dice purtroppo vendere l'anima al diavolo, McGregor per i soldi farebbe penso qualunque cosa. A me sta gente qua non mi è mai piaciuta, ne ho conosciuta anche di persone, ma non mi è mai piaciuta. Luigi Marotta, hai mai provato a giocare a rugby? Sì, a scienze motorie, ho dovuto giocare a rugby. Chiaramente non ero proprio un'assaetta, ho fatto la mia parte, ma non ero penso un talento, anche perché il rugby è uno sport che richiede tanto allenamento, e io ho dovuto imparare le regole, ho giocato una partita, ma niente di più. Però sì, ho studiato il tallonare la palla, il ruolo delle regole, non puoi passare in avanti la palla, devi passarla indietro. Ho fatto per sommi capi questo sport, ma non sono certo mai stato un rugbyista. Jacopo Di Maso, nel kickboxing i monoarticolari possono avere qualche utilità? Sì, sicuramente sì. Luca Gemini, due sedute di allenamento schiena bicipiti, quante serie e volume? Intendi due a settimana? Beh, con solo due sessioni a settimana in allenamento muscolare specifico cambia poco, cambia poco veramente. Allora, Luca, il volume non è importante? Va beh, vi lascio discutere tra di voi qua ragazzi. Allora, Enrico Massocco, in base a cosa si riesce a capire se un soggetto è più portato per un high bar o un low bar? Allora, in teoria con low bar hai meno leva sulla schiena perché la barra è più in basso, però con low bar si tende a piegare di più il busto in avanti. Una persona con i femori molto corti, secondo me, può stabilizzare un ottimo low bar. Io personalmente non pratico il back squat, lo ritengo che sia tollerabile, lo ritengo essere tollerabile, ripeto, tollerabile per il fisico, previa cintura, previo inserimento di cinturoni molto grossi, molto stretti. Le ginocchiere sono sicuramente, aiutano, sono importanti. Anche una buona scarpa rialzata in caso di rapporto leverale svantaggiato tra femore e tibia, sì, svantaggiata. Sto parlando come il Thai Boxer di TikTok, il pupillo, una situazione svantaggiata. In caso di rapporto svantaggioso tra la femore e tibia, una scarpa rialzata può aiutare. Il back squat è uno di quelli che io chiamo esercizi disfunzionali, ma non è che ce l'ho con i powerlifter, io rispetto tutti gli sport, anche il lancio della caccola dal naso, non è quello il punto, è che c'è una branca di powerlifter che ti fa credere che se non fai il back squat sei un disgraziato. ci sono varianti, secondo me, migliori per le gambe del back squat, ma sono anche stanco di dire le stesse cose. Per capire se una persona è soggetta, è predisposta o meno al low bar, c'è tutto un discorso da fare in merito alla lunghezza del busto, in relazione alla lunghezza del femore, in relazione alla lunghezza della tibia. Quando voglio entrare in dettagli biomeccanici, vi rimando magari al libro scritto da Paolo Evangelista, DCSS, in cui viene trattata in modo approfondito tutta la biomeccanica. Poi se volete un sunto, io posso occuparmene in sessione. Se diventate i miei clienti, vi faccio tutta la spiegazione, così vi imposta anche una scheda. una rumba. Marco, ma ce la fai un'imitazione del ragazzo con il cappellino che parla del volume? No, ma io ho già dato. Io agisco solo per legittima difesa. Io non ho mai aggredito nessuno. Se vengo attaccato, rispondo. È il mio diritto. Legittima difesa. Si è messo tranquillo, mi hanno detto. Quindi non voglio ulteriori flame, non voglio beef. Edward, power and muscles. Nel low bar, ho avuto problemi al menisco con le scarpe? Ah, certo. Nel low bar, in effetti, come avevo sentito in un tuo video, ho avuto problemi al menisco con le scarpe col tacco da pesistica. Nike e Roma Leos. Le Roma Leos le usa Uri Belkin, io ho le CJ Cummings. Allora, il fatto è che se tu fai uno squat ben profondo, riesci ad aprire bene l'articolazione del ginocchio, il rischio cala. Se fai uno squat praticamente al parallelo, vai proprio a incidere sul menisco con una brutta combinazione di forze di taglio e rischi di fessurarti o il corno mediale o il corno laterale. La mia opinione è che se uno non fa powerlifting, dovrebbe fare accosciate più naturali. Poi tu mi direi, ma io sono un natural, parliamo di dopati, Dorian Yates si è elevato dalle palle lo squat ancora da giovane, non ha più fatto back squat per tutta la sua carriera, non ha mai avuto problemi di sviluppo di quadricipiti e ha vinto sei Mister Olimpia. E tuttora, fuori dalle gare, avrà anche la sua TRT, quello che è, ma cammina tranquillamente, va in bicicletta, va a sciare, fa canottaggio, quindi è in grado di deambulare serenamente, insomma, fa anche yoga, mi pare. Ibra 83, dieta zona per periodo di massa muscolare, cosa ne pensi? Molto dura. Quando fai massa muscolare, un 40% di carboidrati come bilancio calorico è un po' pochino secondo me, non sono un nutrizionista, però. Sorvegliato speciale, Marco, ma il pugilato ti fa sentire più sicuro? La sicurezza è una qualità psicologica, mentale, ci sono persone estremamente self-confident, sicurissime di sé, che non fanno pugilato e magari ci sono pugili molto esitanti e molto timidi. Io ho visto uno scherzo, una candid camera a Petrosian, Giorgio Petrosian, in cui lo offendeva ripetutamente e lui ha dovuto star zitto perché gli hanno detto, no, sta calmo, poi l'ha, ma comunque si vedeva che non era abituato a scontrarsi per bar, per locali, come del resto anche io, io sono uno che, come se mi suonano i clacsonano, l'incrocio, magari mi mando a fare in culo quello dietro, ma non è che scendo e ingaggio un corpo a corpo. una persona molto sicura di sé è una persona che ha esperienza in un dato campo, quindi una persona che è abituata a fare combattimenti per la strada, ad accapigliarsi fuori da un bar, è molto sicura di sé perché ha già visto magari le date, le ha prese ed è molto sicuro. Un pugile magari agonista che non può permettersi di, non so, ferirsi le mani o essere aggredito da due o tre persone, lì non è questa gran sicurezza, non sei molto sicuro. Poi ci sono invece pugili che hanno esperienza sulla strada e grande capacità combattiva e quelli è meglio proprio girarci alla larga. La sicurezza è una dote mentale che si può sviluppare, si può coltivare, dipende anche dal carattere, ma se voi prendete un combattente fortissimo, ma che mentalmente è un bamboccio, c'è poco da fare. Non è che col pugilato diventate automaticamente sicuri di voi stessi. Se voi faceste la vita per cui siete costantemente immersi in un clima di violenza, di scontro fisico, di sopravvivenza urbana e poi venite trasportati in un contesto in cui il massimo del danno che vi fanno è il capo ufficio che vi bullizza mandandovi a fare le fotocopie, non me ne frega niente, è tutto relativo. Cri. Marco, in che modo influisce l'alcol sulle prestazioni sportive? In modo negativo. Andy Sol. Sì, conosco Manuel Spadaccini. Sì, sì, ho un sacco di è. video perduti dal web, ma quali esercizi usi per il tibiale? Beh, per il tibiale anteriore ci sono dei monoarticolari che possono coinvolgere soltanto il tibiale o esercitare tensione anche sul retto femorale e sul sartorio. Emiliano Gallazzi. Mi dareste un consiglio sulla preparazione atletica per il nuoto? Certo, quanti ne vuoi? Consumi spesso amidi, pasta, pane, eccetera. Io, sì, sì. In inverno il mio piatto di pasta me lo mangio, tre volte legumi, tra riso e pasta sicuramente il riso ha meno amidi, però siamo in Italia, si mangia la pasta asciutta con il pomodoro. Ibra83. Marco, vorrei un tuo parere sul numero di uova da consumare generalmente grazie. Il numero è zero. Io sono vegano, non mangio uova. Peraltro ti invito a informarti sulle condizioni in cui vengono allevate le galline che producono le uova. Felice Fanti. Il lower back va condizionato. Si intendi la bassa schiena forse. Va allenata, non condizionata. Non puoi prenderti abbastonate le vertebre per condizionarle. Pepe Bennett. Ciao Marco, scriverai un libro sul tuo metodo di allenamento? Si, a fine carriera farò un libro. E adesso è un po' presto. Mark Taylors. Potrebbe essere che per un natural seguire costantemente l'allenamento in pump sia la migliore via per crescere? Non secondo la mia esperienza, ma non ho nulla contro la scuola francese. Adesso poi io non ho provato, non mi sono mai allenato con Serge Nubre. Ho provato però ad allenarmi con tante serie ad elevatissime ripetizioni. A parte che il lavoro è gigantesco e devi splittare, quindi la frequenza la riduci. Nel mio caso non ha portato né incrementi di forza, né incrementi di massa, né sulle serie, né sulle singole ovviamente. Non nego che sia comunque un ottimo metodo per un bodybuilder che voglia armonizzare il fisico, però io ricordo che gli esponenti della scuola francese non erano tanto famosi per le dimensioni muscolari quanto per la bellezza, per le proporzioni e in quel caso lì può essere sicuramente un metodo eccellente. Poi io non sono neanche un bodybuilder, non voglio neanche parlare di ambiti che non mi hanno visto fare agonismo, però secondo me la scuola francese non è una scuola nata per sviluppare al massimo la massa muscolare. Tutto lì. La ritengo una buona scuola, io l'ho provata, non ho avuto grandi guadagni dal punto di vista prestativo e delle dimensioni. Sul profilo estetico può avere magari un ottimo impatto sulla ridistribuzione muscolare. Non me ne vogliano i vari seguaci della scuola francese. Franco Laure, grazie mille. Il tuo libro lo comprerò volentieri. Beh, magari te ne invierò una copia gratuita. Grazie. Andiamo se mi sono perso qualche domanda. Domando scusa se non riesco a rispondere a tutti, talvolta le domande scorrono velocemente. Disco Duca. Ho trovato il canale Marco M. Secondo te Petrosian? Chiederà il match? Gli conviene? Penso che sia rilevante il One Championship, potrà organizzare un evento se c'è un certo riscontro, un certo hype. Bleggi. Io nel front squat. No, beh, il front squat sì, è più stretto come stance del back squat. Certo, i piedi sono un po' più vicini sicuramente sì. Emanuele Cecchetto. Ciao Marco, crampi ai femorali durante la panca piana? Addirittura, se ne sai penso a corto di elettroliti, di sali minerali, o forse fai la panca piana in condizioni di stanchezza particolari. Non so se poi dici quadricipiti o bicipiti femorali, immagino siano i bicipiti femorali. Marco, allora, urla, rimba, rumba. Marco, per la questione sicurezza pensi che girare col ferro possa dare sicurezza? Se hai sicurezza devi finire dentro se ti perquisiscono, ma per favore. Ti ripeto, dipende in che zona del mondo vivi, dipende da dove sei ubicato. Se fossimo nel Far West nel 1850, anche i neonati giravano con la Colt, con la Smith & Wesson. Se tu giri per i quartieri bene di Milano, dipende dal contesto, dipende sempre dal contesto. Girare col ferro dà sicurezza, ma stiamo scherzando, è follia. Che se ne pensi della vicenda Vittori Costa? Un professionista può permettersi di non tagliare il peso ed essere arrogante in quel modo. Leonardo, l'UFC ha smesso di interessarmi da un po' di tempo. Peraltro, ma anche Khabib Nurmagomedov starà anche sulle balle, però è una persona seria. Appena ha vinto quello che doveva vincere, si è ritirato. Ha vinto il titolo, ha fatto un paio, mi pare, di difese. Non è un ambiente stimolante in cui restare, da quanto ho capito io. Ormai è un tipo di intrattenimento che non mi piace più, sinceramente. sembra di assistere a un cinema, a una specie di wrestling, non lo so. E con tutto il rispetto, lo dico con tutto il rispetto per gli atleti, io seguivo anche Misha Tate, la combattente campionessa. Mi piaceva Holly Holm, mi piaceva anche McGregor quando combatteva nei pesi leggeri, fino all'incontro in cui ha vinto contro Mendes. Poi già da quando ha cominciato a fare il trash tour con Giusealdo mi è un po' scaduto, anche se comunque Giusealdo ci ha fatto bullizzare mica poco. Poi da lì è il disastro totale. Ho perso un pochino l'orientamento. Parliamo di preparazione sportiva. Felice Fanti, parlando che una persona che studia medicina, ha bocciato la teoria alla base del libro Alkalizer, dicendo che per rendere basico l'organismo basta il respiro o semplice bere acqua. ma è degli di respirare e di bere acqua. Felice Fanti, in condizioni non patologiche sono assolutamente d'accordo, esatto, però dipende appunto della condizione. Magari alcune persone avrebbero bisogno di recalinizzarsi, adesso non dico che siano in condizioni patologiche, però a volte c'è una zona grigia tra l'essere sani e l'essere ammalati. In questa zona grigia secondo me è necessario prendere provvedimenti. Domanda sulla preparazione sportiva. Niente. Ibro 83, allenamento in stile push pull legs in bifrequenza settimanale solo con i fondamentali carichi pesanti di ciccio. La base è la frequenza. La frequenza è l'oro, il volume è il piombo. Tu hai voglia di raccontarmi che nel tuo volume metti le croci, metti le alzate? Se manca la frequenza i risultati sono molto più scarsi. Poi se tu mi dici io mi faccio più buchi di un colapasta, sono pieno di bombe, lì puoi fare quello che vuoi. Praticamente lì gli steroidi hanno la grande bellezza degli steroidi che bloccano il catabolismo muscolare, quindi il discorso frequenza è molto meno importante, ma un natural deve fondare il suo programma sulla frequenza, non sul volume, non sulla varietà, non sulla shock terapia. Deve dotarsi di un arsenale di esercizi validi, metterli a lavorare a massima frequenza e poi alla fine modulare il volume per rendere sostenibile il programma. Da natural. Poi io di bombe non so nulla, mi sono un po' informato, il bombato ha molte più opzioni, io se fossi un dopato farei l'explate routine perché è molto più comodo, ma questa è la storia. Utente Google, Marco, pensi che una full body tre volte a settimana sia la miglior via per lo sviluppo? No, non lo penso assolutamente. Full body tre volte a settimana è la miglior via per sviluppare nulla? No, non lo penso. Cioè sì, fai un po' di lavoro, ma secondo me è la via migliore. Fabrizio Bidi, recente ho risolto alcuni fastidi alla spalla da quando ho ripreso a fare il lento avanti. È un caso, non è assolutamente un caso, io ogni volta che tolgo il lento avanti dal mio programma mi comincia a marcire la spalla a sinistra e devo reinserirlo. I programmi di specializzazione sono fantastici, danno tanti risultati, purtroppo durano poco perché è necessario un numero minimo di esercizi disposti in modo strategico per continuare a sviluppare muscoli preservando le articolazioni. È un modo più lento di procedere, però è necessario fare anche il lento avanti. Il lento avanti viene criticato dai culturisti anni Ottanta perché secondo loro non serve a nulla. Il lento avanti è fondamentale per tenere sane le spalle, elastica anche l'articolazione della spalla, quindi una persona che non riesce neanche ad alzare le braccia sopra la testa. Per me è una persona non elastica e questo è quanto. Quindi chi critica il lento avanti secondo me è ancorato, ha una mentalità proprio anni Ottanta, gente che magari si ascolta ancora di Spandau Ballet finché fa il curling alla panca Scott. Gente che si sviluppa le spalle col pump e le alzate laterali e sputa sul lento avanti per me è rimasta molto indietro. Se poi si venisse a sapere che costui non è neanche natural si arriverebbe al ridicolo totale. Mattia, il military press lavora principalmente trapezio e muscoli del collo. Il lento avanti non è un esercizio diretto e specifico per i muscoli del collo. La catena muscolare del lento avanti è trapezio del tot di tricipiti. Il trapezio lavora in isometrica, non è un primal mover. Ritengo il lento avanti molto molto valido per i tricipiti sia per l'allungamento del muscolo che per poi la potenza spregionata, ma non è che il lento avanti ti fa il collo da Tyson. Federico Dente, domanda semplice, come va così in generale? Sono in fase di ammorbidimento, ho ridotto un pochino gli allenamenti, sono molto meglio. Tra un po' si riprende però. Allenarsi tutti i giorni vi da un'ottima condizione fisica, però ogni tanto per permettere anche al cervello di scaricare è meglio fermarsi. Diego Strazzullo. Ciao Diego, ben tornato. Il Military Press è il king assoluto degli esercizi. Beh, king assoluto no, non c'è un king assoluto degli esercizi. Ci sono vari esponenti per le tre categorie, ci sono gli esponenti di spinta, gli esponenti di trazione, gli esponenti di accosciate, il Military Press è un ottimo esponente della categoria spinta. Mattia, Marco soffri mai di epicondidite? Per fortuna no. Superbon, lento avanti con manubri o bilanciere? Io preferisco i multi articolari a catena chiusa. Mark Taylor, si può argomentare più approfonditamente cosa intendi dicendo la frequenza per un natural è oro? Beh, molto semplice. La frequenza è l'oro, il volume è il piombo. Frequenza oro, volume è il piombo. Uno, se riduce la frequenza non può compensare questa carenza mettendo volume, cioè se tu mi dici io faccio i pettorali una volta alla settimana ma faccio 20-30 serie, non è così che funziona, non è sufficiente. Queste 20 serie o 30 serie di per sé non danno la garanzia di crescita, soprattutto se la tua frequenza allenante specifica è di una volta ogni sette giorni. Poi voglio raccontarmi che però io mi alleno tutti i giorni perché ho il lunedì il pettorale, il martedì la schiena, il mercoledì le gambe, non attacca, non funziona. La frequenza è l'oro, la frequenza deve essere la massima possibile, la più elevata possibile. Il volume è il piombo, cioè quando per alcuni motivi non si riesce a essere molto frequenti, si può piombare qualche sessione con più serie e cercare di rattoppare il programma, ma l'ideale è clonare sessioni per tutta la giornata, per tutta la settimana, per tutto il mese. Chiaro che quando si fa una scheda ricca di esercizi, se una persona fa ballare un programma con 4, 5, 6 esercizi, non può fare 6 esercizi due volte al giorno, anche perché i programmi che si prestano meglio ad elevata frequenza sono programmi molto corti. Quando si ha un programma piuttosto ingombrante si è già fortunati se si riesce a fare ciascun gruppo muscolare una volta al giorno, l'ideale sarebbe avere stimolazioni multiple in un giorno, per tutta la settimana. Però qua si va su programmi che con il bodybuilding c'entrano poco, io non faccio programmazioni per il bodybuilding usando il metodo bulgaro, sia chiaro questo. Il bodybuilder deve essere bello, deve essere muscoloso, non deve essere enorme, non deve essere forte. E qua si torna il discorso della scuola francese delle split routine. Ciao Giulio. Ciao Simone, una volta il mio allenatore di box mi disse che utilizzare spesso elastici poteva danneggiare le spalle. Dipende da come li utilizzi, è chiaro che se tu usi gli elastici in modo sbagliato puoi danneggiare sicuramente le spalle. E poi io non sono mai stato neanche un grande fan degli elastici. Anche nei monoarticolari, anche nei monoarticolari preventivi, io se posso uso i manubri, non uso neanche le carrucole col cavetto, per carità ho anche gli elastici perché devo seguire anche clienti che preferiscono usare resistenza variabile, ma io personalmente preferisco i manubri. Cioè non togli che con gli elastici, con il loop band puoi fare un ottimo lavoro di prevenzione dell'articolare, questo sia chiaro, ma se tu usi male gli elastici puoi farti male anche con quelli. Nella preparazione sportiva è molto importante preservare l'atleta. Benile Jack, secondo te Marco è importante fare isolamento per degli togli posteriori per avere spalle più voluminose. Ma secondo Ferrero il deltoide prende la sua rotondità a partire dal capo posteriore. E' una teoria interessante. Io ritengo personalmente che sia necessario in ambito di bodybuilding chiaramente fare tutti e tre i capi del deltoide, quindi frontale, laterale e posteriore. Fabrizio B, cosa ne pensi dei vari 3x3, 4x4, 5x5? Vanno benissimo, ottimi schemi, finché sia in fase di apprendimento, finché sia dei principianti. Io li uso con profitto su alcuni soggetti abbastanza ostici nel captare uno schema motorio. Quindi nulla di male, chiaro che poi... Francesco Gandolfo, comunque non esiste isolamento muscolare. Beh, è ovvio, anche se tu fai un curling per i bicipiti è chiaro che coinvolge anche il deltoide anteriore, lo sterno claveare, cioè il fascio sterno claveare del pettorale. Se anche fai lo skull cracker per i tricipiti coinvolge anche l'avambraccio. Il isolamento puro non esiste in effetti, è un po' una chimera, però si può avere un esercizio che vada a lavorare più o meno su un target specifico. Poi i compromessi esistono sempre. Utente Google, Marco, spieghi per favore come è strutturato il metodo bulgaro. Sì, siamo qua fino alle due di notte. Ho già fatto dei video al riguardo, ho già fatto molti video sul metodo bulgaro, che non è l'unico metodo, è il mio preferito, ma io li conosco un po' tutti. Programmo anche per i bodybuilder, quello ve lo dico tranquillamente. Programmo anche per i powerlifter. Un mio ormai amico, più che cliente, ha vinto una gara di panca piana nella federazione di pesistica. Poi io sono un ex pesista, quindi strappo e slancio. Parlare di metodo bulgaro richiede tanto tempo, è una programmazione molto complessa. Andrea Rivieri, preparazioni atletiche per motociclisti, cosa ne pensi? Molto interessante come domanda. Il motociclista deve essere sostanzialmente leggero, deve avere una grande resistenza negli avambracci e nei tricipiti per reggere le vibrazioni e le sollecitazioni e deve essere anche piuttosto agile per gestire nelle fasi di salto la motocicletta e il proprio corpo. Non è una preparazione troppo complessa, ma non bisogna neanche sottovalutare le richieste atletiche che questo sport sottopone. Luca Gemini, cosa ne pensi di Master Wallace? Ha fatto una recensione diversi anni fa ancora. Non è un dissing. Io ho semplicemente recensito il suo metodo e questo è quanto. Tutto lì. comunque ho già fatto un video al riguardo. Nix, migliore esercizio per rinforzo del gran dentato per problemi di postura. Sarei tentato di risponderti il lento avanti. Per il dentato anteriore, per il grande dentato, il lento avanti è un ottimo lavoro. La postura, secondo me, passa dal lento avanti. Passa anche dal lento avanti. Purtroppo è un esercizio dileggiato, criticato, sottovalutato. Però soprattutto in tenera età fare pesistica è molto importante. Poi, senza arrivare a fare strappo e slancio, almeno un buon military press andrebbe fatto. Manuel Di Falco, cosa ne pensi delle preparazioni per chi gioca a freccette? Penso che questa domanda qua sia un po' una pesa per il culo, quindi non intendo abboccare. Ces Simone, preparazione per i ciclisti. Uno dei miei docenti FIF, mi pare Franzoni, si chiamava costui, diceva che ai tempi in cui Pantani ancora vivero nel 2006-2005, non mi ricordo. Io ero molto giovane, fece un corso FIF e si parlava di Pantani, Marco Pantani. C'erano alcuni preparatori che volevano potenziare il suo arto inferiore per permettergli di reggere meglio alcune fasi della competizione. Poi, a quanto pare, Pantani si rifiutò. Il ciclismo su strada è un conto, poi il velocista, il pistard, quello ha un altro tipo di preparazione. Ho visto velocisti su pista che hanno dei quadricipiti giganteschi. Lì c'è sicuramente un lavoro importante fatto con leg press magari o con altri strumenti, magari la trap bar. Un ciclista non ha una grande profondità di accosciata. Nel caso di ciclismo di resistenza, la coppia, la Bartali, è necessario potenziare un po' l'arto inferiore, ma non con un occhio particolarmente di riguardo. Nel caso di un velocista puro su pista, lì il quadricipite, il gluteo, il gastrocnemio, il tricipite surale, insomma, vanno veramente potenziati. Jacopo Di Maso, cosa ne pensi di Umberto Miletto? Non mi risulta, non ricordo che lui faccia preparazioni sportive, preparazioni fisiche sportive. Mattia, la cosa ne pensi dello squat fatto dall'allievo di Domingo? Ho esaurito le mie capacità di dialogo al riguardo. Mark Taylors, nel military insegni che il metallo va appoggiato sull'osso, duro su duro. A me fanno male le clavicole e il bilanciero deve appoggiare per foto sul petto, come mai? Ho sentito questa storia mille volte, non voglio darti del ramollito, non voglio darti della femminuccia, però il condizionamento osseo è una parte fondamentale. Poi, se senti troppo dolore, fai altro, per carità. A Rimba Rumba, cosa ne pensi di Luigi Trotta che si è messo a fare il PT? Non lo so, so che ha lavorato con Enrico, era piuttosto stazzato prima di lavorare con Enrico, aveva già delle buone basi muscolari allenandosi per la forza. Ricordo che mi dedicava anche dei video anni fa, mi alleno come Marco Pt, una volta ho messo un video in cui ho fatto 10 ripetizioni di stacco da terra con 180 kg, e anche lui si è messo lì a fare con 180 kg, però all'epoca era un po' grezzo tecnicamente, faceva lo stacco standard senza appoggiare il bilanciere, usava dei nastri. Però è un ragazzo che ha buona volontà, è un ragazzo che ha tanta buona volontà, penso che il panorama abbia bisogno di sangue nuovo, di tecnici nuovi e volenterosi. Quindi Trotta, lo dico pubblicamente, se avesse bisogno di una mano o comunque se volesse confrontarsi… Già ci ho fatto un'intervista con Trotta su Instagram, mi sembra un ragazzo con delle buone basi, ha avuto una buona formazione da bodybuilder, peraltro tra un po' dovrebbe anche gareggiare, mi dice il suo maestro Enrico Ratti. Insomma sì, sono ben disposto, penso che abbia sicuramente buona volontà, prende molto sul serio il training, penso che farà anche un'ottima gara. Andrea da Ross, ciao Marco, ci avrebbe un video sulla preparazione fisica per la pesistica, altro che… è che purtroppo la pesistica è sempre meno diffusa perché le strutture in cui fare pesistica sono sempre più scarse, e poi perché come sport in sé non è così tanto popolare perché la soglia di ingresso è molto alta, non è come competere nel powerlifting, insomma il bello del powerlifting è che è uno sport molto più popolare, perché la soglia tecnica di ingresso è più bassa, una persona può imparare a fare una panca piana anche a 30 anni, ed avere una buona panca piana, uno stacco da terra lo impari anche a 30 anni, imparare a 30 anni in strappo e slancio ad essere competitivi, in strappo e slancio, tanti auguri. Purtroppo la pesistica ha questo problema che è una finestra di opportunità molto piccola, ecco. Quindi non so, la preparazione fisica per la pesistica ha tante componenti, elasticità, e a voi c'è la muscolazione, sulla muscolatura scusate. Ci sono tanti esercizi che io progettavo per i pesisti, avete presente gli affondi camminati? Beh questi te li voglio raccontare da Ross, per la pesistica, parlo di strappo e slancio del WL, allora un esercizio che pensavo di mettere a punto era tipo l'affondo camminato alla Ronnie Coleman, anziché il bilanciere sulle spalle, il bilanciere in posizione strappo, tipo anziché un overhead squat, un overhead lounge camminato, questo per dare stabilità. Chiaro che sarebbe inerente allo slancio, la spinta con spaccata, la spinta con sforbiciata è inerente allo slancio, però fare affondi con le braccia troppo corte, troppo strette può essere un po' problematico, quindi un overhead lounge in pugnatura strappo, larga. Poi un altro sistema di lavoro potrebbe essere, vabbè non voglio dilungarmi dai, comunque dai una chance all' overhead lounge. Super buono, è possibile che le intra rotazioni e le extra rotazioni fatte con elastici creino un pigment subacromiale? Beh se le fai male sì. BB lifestyle, ciao Marco, split o full body per mettere massa da natural? Beh dipende, se tu hai già una buona massa muscolare, devi frazionare il programma per renderti più bellino per gareggiare, se tu parti da zero assoluto e sei un povero secco che parti da zero, allora devi fare full body, questo è ovvio. Cess Simone, sono importanti anche gli esercizi per aumentare l'equilibrio, ad esempio nella ginnastica, cosa consigli? Questa è la preparazione atletica, un ginnasta fa pochissimi pesi, per lo meno secondo le mie conversazioni ed esperienze. Young Doug, è possibile che facendo solo panca e trazioni per la parte alta le braccia siano sempre più sviluppate del petto? Panca e trazioni per la parte alta? Ah beh dipende, ci sono persone dotatissime negli arti superiori che facendo veramente quattro robe in croce hanno braccia gigantesche, persone che allenano i bicipiti in modo maniacale, continuativo e intelligente che hanno dei bicipiti che sono filiformi. La genetica ha un ruolo fondamentale, la genetica se vi si mette contro la genetica non c'è Cristo che tenga. Perro, ciao Marco, hai avuto problemi nella zona lombare? Sì qualche arnietta, qualche arnietta. Mi chiedevano spesso, ah qua vorrei aprire una piccola parentesi poi chiudo la live, se ho fatto in militare o no. Allora, questa strada qua per me è molto, molto noiosa, però vabbè, allora io sono un classe 82, dovevo fare la leva, militare di leva. Ero abile di prima, ho fatto la visita, tutto quanto, abile di prima, vista, udito perfetti, visita psicologica passata col massimo dei voti. Io purtroppo portai con me una risonanza magnetica per una protusione di scale tra D12 ed L1, se ricordo bene. Una vecchia protusione che mi procurai facendo, insomma, pesistica, ecco. Niente di grave, però io per scrupolo portai questa lastra e mi fecero rivedibile. Rivedibile vuol dire che dovete presentarmi l'anno dopo. L'anno dopo venni scartato, non so per quale motivo, non ho ben capito, ma si vede che c'era un esubero, non lo so, hanno preferito lasciarmi a casa. Però mi è molto dispiaciuto, io avrei voluto fare militare di leva, non fare volontario, non fare il VFA. A me sarebbe piaciuto fare proprio la leva, la classica leva. Spero non stato sicuramente un idiota portare quella lastra, non pensavo che avrebbe pregiudicato la mia missione. L'ho partata così per scrupolo, così, vabbè. E vabbè, d'altronde è nata così. That's it. C'è Simone, hai già, hai ragione. Utente Google, ultima domanda. Marco consigli per aumentare i livelli di testosterone in modo naturale? Tu da come scrivi devi essere molto giovane, come penso tu sia, se sei molto giovane hai abbondanza di testosterone. Lascia che il testosterone lavori per te, non lavorare tu per lui. Mangia in modo equilibrato, allenati e questo dovrebbe bastare. Non vedo da come scrivi, non mi sembri una persona anziana con deficit ormonali. M.A. Ho delle simpatie. Ho delle simpatie. Ragazzi, per stasera direi che è tutto. Purtroppo avrei voluto dedicare più tempo alla preparazione sportiva, però mi rendo anche conto che l'interesse oggi sta avvertendo sempre di più al lavoro per se stessi. Cioè, le persone si stanno sempre di più orientando a lavorare verso il proprio fisico e non in favore di una squadra o di uno sport. Questo è un trend molto interessante. B.B. Lifestyle. Cosa ne penso di Green Cuts in palestra? Non posso parlarne, ma non per bigliaccheria. Se mi espongo in un lato diventa... Se io fossi un pro Green Pass sarei una pecora, sarei un servo dello Stato. Se io fossi contro il Green Pass sarei un fascista, un anarchico, un ignorante. Quindi, capisci anche tu che non posso dire nulla. Non posso assolutamente espormi, perché si è creato questo sistema schizofrenico a ganache in cui si vede da una parte. Sbagli, si vede da l'altra, sbagli comunque. Quindi io non posso espormi al riguardo. Patrick Bateman, come risolvi il pelvic tilt, facendo tecnica, rompendosi i coglioni, allenandosi con esercizi seri. E questa è la storia, il pelvic tilt. Ragazzi, finché guardate... Vabbè, lascia stare. Il king degli esercizi. Jacopo Di Maso, quando andasti alla visita di leva dal punto di vista muscolare, come stavi messo? Ero sui 90 kg. Ero, peraltro, in periodo agonistico, e ero messo bene. Vabbè, ragazzi, direi che è tutto. Grazie per la compagnia, è stato un piacere. Marco Pt, alla prossima. Grazie. Grazie.